Lunedì 24 febbraio, investire in 90 secondi. Panic Selling sul mercato italiano, sono le 9.15 e il FIB porta a meno 4.27. Una decina di titoli hanno fatto fatica a fare prezzo, in questo momento questa è la lista dei sospesi qui giù. Grande fatica a entrare in negoziazione per i titoli bancari, anche il lusso è in grande difficoltà, effetto coronavirus sui mercati, ne abbiamo parlato diverse volte nel corso degli scorsi appuntamenti di investire in 90 secondi. E' brutto dire, lo avevo detto, ma in questo caso è veramente necessario. E che fare con i mercati così? Non farsi ingolosire da prezzi a sconto perché il panico sui mercati può degenerare. E quindi vedere, questa è la variazione dei titoli, i peggiori come evidente sono tutti negativo, almeno la variazione del 2% rosso. Quindi oggi soprattutto intraday, dispiace francamente di aver liquidato lo short sul FIB venerdì, sarebbe stato veramente colpaccio ma ci sta. E allora buona giornata, prudenza e soprattutto intraday per sfruttare la grande volatilità presente sui mercati in queste sedute.